E come al solito anche questa volta sono d'accordissimo con Antonio Conte, per me è un'altra conferenza top, sono d'accordo con lui dalla prima frase all'ultima, dalla prima sillaba all'ultima vocale espressa, d'accordissimo, d'accordo, in toto. Perché direte voi? Uno, innanzitutto perché tiene alta la guardia, mantiene alta la guardia, c'è chi già sta pensando al Barcellona, alla Juventus, no, prima viene la Sampdoria e la partita più importante è sempre quella che vai ad affrontare, ed è verissimo, ed è verissimo, anche perché a onore del vero, cioè noi con i fanali di coda, con le ultime in classifica abbiamo sempre avuto guai, abbiamo sempre fatto le nostre magre figure, Quindi è arrivato il momento soprattutto di dimostrare quanto l'Inter possa essere concentrato in queste partite, ed è importante, importantissimo perché poi questa partita ti dà tre punti come te li ha dati la partita contro la Lazio, quindi devi giocartela benissimo, non bene, benissimo. E con lui, su questo sono d'accordissimo. Poi, fa bene a non cadere nell'esaltazione generale, fa bene, perché ricordiamoci che nelle passate stagioni l'Inter è stata in testa della classifica anche a dicembre, non solo a settembre, quindi attenzione a questi alti e bassi e noi non dobbiamo fare più questa altalena. Quindi fa bene anche a rimarcare questo, il fatto che Napoli e Juventus restano avanti, restano avanti e sono d'accordo con lui. Poi, ultima cosa, e dice qualcosa, non so se l'abbiate notato o se abbiate dato il giusto valore a quanto dice, dice qualcosa di importante, un retroscena se vogliamo veramente, ma veramente importante. Quando appunto, come al solito, i giornalisti propongono il parallelismo tra la Juventus di Conte, la prima Juve di Conte e l'attuale Inter, perché ai giornalisti giustamente piace fare questo, il loro pane quotidiano, diciamolo anche, appunto gli chiedono, ma oltre alla difesa forte, oltre al fatto che anche in quella Juve segnavano tantissimi centrocampisti, vedi altre similitudini? Quindi, lui spiega un po', inizia col fatto della difesa, che non è una questione solo, poi una cosa che mi piace di Conte è che lui svia comunque, lui dribbla le domande, lui cerca sempre di sviare in qualche modo, è fantastico da questo punto di vista. E vabbè, quindi parte col discorso che sì, ma la difesa non è composta solo dai tre difensori e dal portiere, ma da tutto il sistema difensivo, quindi da tutti gli undici giocatori coinvolti, anche su questo possiamo essere d'accordo, ma poi arriva il fatto che, dice sì, in quella Juventus, in quella Juventus sì, noi fummo bravi, cioè questa è importante, noi fummo bravi, dice, fummo bravi, però c'era un Milan con Thiago Silva, Ibra, Robinho, Nesta, noi fummo bravi, dice, però a loro qualcosa è mancato, qualcosa, loro sono mancati, nel senso che, dice, comunque loro erano i favoriti, e noi siamo stati bravi, però per vincere non basta soltanto che noi siamo bravi, cioè devono anche gli altri mollare qualcosa, questo è importante, questo non va tralciato, significa che comunque, dice, questa Inter può arrivare, potrà anche arrivare, anche prima volendo, però, però devono mollare quelle davanti, io sono d'accordo con lui, io sono d'accordo con lui, cioè, ripeto, lui guarda, lui è iscritto al mio canale, lui sa tutto di me, lui è iscritto a me, mi segue, ogni tanto ci sentiamo a terra, quindi ecco perché lui parla in questo modo, perché conosce la mia filosofia, quindi è questo, è questo il retroscena vero e proprio, ma spiersi a parte, cazzate, a parte dice qualcosa di sacrosanto, dice quello che io vado predicando da tempo, per quanto l'Inter veramente deve comunque martellare, 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 alla fine i favoriti svestano loro, perché loro hanno una squadra che basta vedere gli 11 titolari più le 11 riserve, gli 11 titolari e le 11 riserve, stessa cosa, stessa cosa anche volendo il Napoli, quindi fa bene, fa bene a non cadere nel tranello dell'esaltazione, io sono contentissimo, sono contentissimo di quanto dice di settimana in settimana, perché così mantiene alta la guardia, perché così mantiene alta la concentrazione, ed è quello che ci è mancato negli anni passati, perché poi, come rimarca lui stesso, 5 vittorie non sono il primo allenatore a fare 5 vittorie di fila all'Inter, non sono il primo, il problema è che c'è uno storico, dice appunto questo, c'è uno storico che dimostra che l'Inter a volte va a mille, ma poi c'è l'altalena, sale e scende, ecco il motivo per cui l'Inter deve rimanere concentrata, non farsi prendere dalla smagna dello scudetto, l'Inter deve giocare partita dopo partita, benissimo, condivido in toto, in toto, tutto quello che dice Mr. Antonio Conte, come lui, iscrivetevi anche voi al mio canale, commentate, likeate e un abbraccione, un abbraccione da Nischio.